D'Averio è entrare nelle analisi politiche. D'Averio sta criticando moltissimo Salvini in questi giorni, Salvini però all'apice del suo successo, vorrei che lui ci raccontasse con il suo occhio di cittadino dell'Europa come vede l'epifania di questo leader. Salvemini nel 1910 spiegava che nel Meridione molti che non avevano lavoro trovavano l'unico sfogo nell'ambito della piccola borghesia di finire in politica. O sono passati cent'anni e siamo rimasti lì, quindi è un fenomeno tipicamente italico e specifico, se andate a vedere quei tristi cruchi che ha la Merkel come capa intollerabile, però quei tristi cruchi lì non è che fanno solo quello come mestiere, optano per delle alternative, punto uno. Punto due, non è obbligatorio essere corrotti, si può anche fare a meno. Io mi sono trovato per quattro anni col Formentini a gestire uno dei bilanci locali più alti della storia d'Italia e sui bilanci locali è lì che si fa la pila, più che su quello statale. Ma devo dirvi la verità, che ci sono anche rimasto male, facevo 800 miliardi di appalti all'anno, non mi è mai arrivata una proposta di corruzione, a tal punto che al quarto anno ho detto ragazzi non sono fatto per la politica, mi devo tornare a fare la persona normale. Allora non è obbligatorio essere corrotti. Lo ricordiamo lei è stato assessore con Formentini, la prima giunta leghista di Milano. Tra l'altro nel pieno della stagione, proprio all'uscita della stagione di Tangentopo.